Qua ci sta l'ANAS, la macchina, però non c'è nessun segnale, è solo questa piccola pietra alla fine, niente di che. Qui non c'è nessun segnale, niente, è il comandante, comandante, allora ci può informare come è la situazione? Qua è furore, qua è furore. Lo so, lo so, però diciamo che Praiano ci interessa. Sì, siccome stiamo attendendo, stiamo attendendo. Ci sta ancora nessun provvedimento ufficiale, ancora niente. Per il momento noi no. Per il momento ancora no. Allora stiamo ancora attendendo, quindi per il momento si passa, questo è tutto, siamo sul posto, ringraziamo il comandante, ringraziamo l'ANAS, il comandante è comunque di furore, di Praiano scusami, però la strada è di furore, quindi Praiano finisce là praticamente. Un po' prima. Un po' prima, quindi siamo qua. Comunque ringraziamo il comandante Gargiulo. Niente, al momento non sappiamo niente. Ci informeremo a più breve, vi faremo sapere perché chiaramente è legato soprattutto al passaggio della sita. Ecco, questo è il ma...